Allora ragazzi prima che incomincia il video vi volevamo ricordare che è uscita la mia canzone Welcome to my moon Quindi raga andatelo ad ascoltare e niente fateci sapere la vostra Ehi stai riusciti Mi hai rifatto di nuovo? Stai registrato? Si Stai registrato? Si Stai registrato? Stava... Non doveva rientrare? Non vedo dove c'è essere in casa Stava alle 5 e mezza Stava andando? Lo senti? Lo stai a sentire? Non ricomincia eh Dimmi sai te che mi sta a fare il prank Ah si so io che tu sto a fare il prank Le Ma sai te Sì fatti Fila C'hai lasciato tutto sto tempo la luce accesa? Complimenti Ehi bello Mergatto Stupido gatto Stupido gatto Stupido gatto degli angoli Devevi voler dare un certo Sonerie Ila Ma c'è Perché sta cosa? Beh Mi sorella qua non c'è Sì ma dove sta il telefono? Non l'hai sentito? Eh Sì Tiktok Perchè Perchè lo scrutava il telefono quindi non c'è Stupido gatto Eeeh Perchè sto guardando? Ma infatti ma Ilaria non fa queste cose Vabbè Ma io Prova ovunque Chiudi Aspetta Non l'hai sentito? Oh l'hai viste? Senti Senti Malù Oh No No Senti Malù Come appaglia? No Vabbè Oh l'hai viste un'altra volta? Oh piano Oh Aspetta Ti vuoi girare Se non fare Signore Che vuoi dire Ciao Oh Ma perchè hai aperto il garage? A tuo padre? Mi mando 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 Ho O In là Perché ste qua Alla In là In là In là In là Stampa 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 L'ho Stampa Corri Cusi Etto letto Corri 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 Oh, in da qua! Sali, su! Sali, su! Chi era? È nervoso! Perché sei con quello, con quell'uomo? Mi era vita. Ecco perché sto guardando. Quando? Quando ti era vita? Quando stavo dormendo. Chi? Voi! Ecco perché tutto sto bordello. Ma si può, vedete qua, mo? Quindi è chiusa a chiave e non si può aprire sta roba? No, non si può aprire qui niente. Oh! Regà. Ma sti luci non ho capito che cosa... No, io non è. Oh, accendo. Ho visto che c'è una sti luci, ma mo? E gli la resta qua. Gli la resta qua. Oh! Hai visto? Un'altra volta. Non è possibile, prova. Si muo! Si muo! Entra! Entra! Oh! Oh! Entra! Oh! Oh! Entra! Chiudi! Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua! Uno che Давайте io cosa c'èÒs Pepiotto... Vatteni! Che vuol dire? Fermo Simo, fermo. Reggi. Che vuol dire? Sei andato? None se sta qua fuori, sono convinto. No, fermo Simo. Oh! Ci stai?! No, 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 Simo, c'è C'è la porta di casa aperta, senti il rumore C'è la porta di casa aperta, piano C'è la porta di casa aperta, Simone, lo senti il rumore Piano, piano, no Urla se succede qualcosa Piano, Simone, piano C'è andato Un'altra volta, non è possibile Che cosa ha detto? Il primo capitolo del gioco si è completato Il primo capitolo del gioco si è completato Il primo capitolo del gioco si è completato Il primo capitolo del gioco si è completato